Foto originali della campagna del Nord Africa, qui l'allineamento dei carri leggeri. I comandanti, il generale Rommel, Bastico e il generale traduttore. Qui siamo alla ridotta Capuzzo, confine egiziano, con le tombe dei caduti. Il soldato tedesco pronto con la mitragliatrice, osservano l'esplosione di bomba. L'avanzamento dell'autocolonna nel deserto. Qui invece siamo sul ponte di Bardia, il porto. Un Natale 1941 nel deserto, Dac. L'entrata vittoriosa a Marsa Matruc. Molti prigionieri inglesi catturati qui venivano imbarcati per l'Italia. Santa Messa a Passo Alfa e a sinistra la baracca del comando del reggimento artiglieria Celere. Rifornimento nel deserto di acqua. Infine la resa dopo la battaglia di El Alame. Grazie. Il Salce di tutti iinstanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri, metriło a tutti i nostri, metri. Grazie a tutti i nostri. Grazie a tutti i nostri ho segnodi. Grazie a tutti i nostri so� rusti, ti nosso objetivo ist compassio. 業 Vista a tutti i nostri. Oltri a tutti i nostri. Tiggles un Agrego Minwali vostri èIESo. He Questo uno di andere, Hos lyrics.